Non possiamo non votare riforme istituzionali che proponiamo da vent'anni e anzi siamo felici del ravvedimento operoso della sinistra che in passato le ha fossate. La legge elettorale è un tassello importante e tuttavia genera qualche sospetto l'accelerazione di queste ultime ore di Renzi dopo che l'ha tenuta bloccata per otto mesi al Senato.